Abbiamo riscontrato nel corso del tempo che molti delle partite IVA, soprattutto nei giovani ragazzi che hanno avuto delle serie difficoltà per aprire gli sportelli qui da noi, erano all'oscuro di tante informazioni, dalla possibilità di avere fondi europei, agevolazione eccetera. Questo sportello serve proprio per dare una mano ai nostri giovani talenti che così dovrebbero non essere più costretti a esprimere le loro capacità all'estero e magari rimanere qui nei nostri territori, fare degli investimenti importanti e creare benessere per tutto il territorio e per tutta la popolazione.